Io ok, ok, ero nuovo, ero sempre quello nuovo. Mio padre è un diplomatico e quando ero piccolo ci trasferivamo da un posto all'altro per il suo lavoro. Beh, viaggiare è fantastico, però farsi degli amici per poi doverli abbandonare, no. Adesso posso capirti, per me è già stato difficile cambiare paese una volta, persa tu che ti trasferivi sempre. Senti, perché la chiamano la fontana al rovescio? Perché non siamo noi che scegliamo quello che desideriamo, è la fontana che capisce quello che uno desidera davvero e lo realizza. E a te ha mai realizzato qualche desiderio o qualcosa di simile? Certo, certo, e non essere così diffidente, guarda, ho due monete, pronta per i tuoi desideri? Ma non dirmi che la cieca delivery non ha coraggio o hai paura che la fontana non realizzi il tuo lavoro. Dai, eh? Questa cieca delivery non ha mai paura. Vediamo. Vieni. Pronta? Sì. Uno. Due. Tres. Tres. Tres.